Nozze d'argento per ragusani nel mondo, 25 anni in cui l'associazione fondata da Frank Antoce e da un gruppo di amici è cresciuta fino a diventare una realtà consolidata che riscuota apprezzamenti e consensi nell'area eblè e non solo. Un traguardo, quello del IV di secolo, che verrà festeggiato con una grande festa stasera all'auditorium della Quasimodo a Ragusa. Come festeggiare? Non certamente in maniera apologetica, in maniera autocelebrativa, ma coinvolgendo un po' degli artisti al massimo livello che sono saliti sulla ribalta dell'associazione attraverso il premio e altre attività in tutti questi anni che volontariamente si offrono per dare un saggio della loro bravura con una esibizione artistica che riteniamo per l'insieme degli artisti che domani sera faranno passarella sul palco dell'auditorium della Quasimodo è unica nel suo contesto, soprattutto nell'area eblè. Noi siamo ben felici di averli coinvolti, siamo ben felici di voler offrire gratuitamente tutta la comunità eblè che vorrà intervenire, preciso che l'ingresso è assolutamente libero e gratuito fino alla copertura chiaramente dei posti e sedere dell'auditorium. Siamo ben felici, dicevo, di offrire alla comunità eblè le performance di questi artisti e di celebrare una festa nella maniera più semplice possibile. L'associazione deve la sua fama anche al premio Ragusani nel mondo che negli anni ha premiato l'eccellenza del nostro territorio e di tutta la Sicilia, che si sono distinte in tutto il mondo, ma sono tante le attività che Ragusani nel mondo porta avanti da diversi anni. Io vorrei ricordare che l'associazione magari si fa conoscere per la punta di iceberg della sua attività, che è quella del premio, ma non c'è solo il premio, c'è tutta un'attività di ricognizione, di contatto con tutte le nostre comunità sparse in giro per il mondo, che è passata attraverso anche tantissime attività culturali in tutti questi anni, tantissima anche assistenza di volontariato a beneficio di tanti conterrani che hanno bisogno e che in qualche maniera di approcciarsi sul territorio. Noi siamo stati, come dire, la terza mano del territorio in tutte le aree del mondo, là dove c'è un cuore ragusano, un cuore bleo. La nuova edizione del premio per il prossimo agosto è già in cantiere e si prospetta come sempre un grande spettacolo pieno di sorprese. Quest'anno cade il 5 agosto, ci saranno tante altre belle storie, tantissimi altri bei momenti artistici, che al momento non vogliamo svelare perché non siamo sicuri, ma ci sarà anche un contorno di assoluto prestigio dato della presenza nuova della Banda Nazionale dei Carabinieri. Intanto il gruppo si concentra sui festeggiamenti in grande di stasera, con l'entusiasmo che dopo 5 lustri è ancora lo stesso di prima.